Non è l'abito che si indossa che causa una violenza sessuale, ma è la persona a causare il danno. Essere in grado di mostrare premura alle vittime e suscitare maggiore consapevolezza nel pubblico e nella comunità è la vera motivazione del progetto. Jean Brockman, direttrice del Centro per la Prevenzione e Formazione Sessuale dell'Università del Kansas. Abbiamo avuto modo di conoscere la mostra come rivestita e abbiamo trovato molto interessante questo modo diverso di guardare la violenza sessuale e gli stereotipi di genere che possono annidarsi nella nostra società. Da diversi anni ormai con la Commissione Pari Opportunità e con le associazioni del territorio di Caselle Torinese stiamo cercando di portare promozione, sensibilizzazione, conoscenza su tutte le tematiche che vertono intorno alla violenza di genere, ai femminicidi e all'importanza delle parole, dell'uso delle parole e di quanto esse possano essere incisive nella vita di tutti i giorni, di quanto i pregiudizi possano avere un valore alto. Ecco, questo è soltanto una briciola di quello che le donne provano subito dopo aver subito una violenza sessuale. è un continuo processo mediatico che si somma al dolore, alla sofferenza che si prova quando il proprio corpo viene invaso violentamente da qualcun altro senza che vi sia stato dato un consenso. E allora abbiamo voluto provare, in quest'ottica di coinvolgimento, a portare questa mostra non in un luogo chiuso, ma fra la gente, in diversi posti, perché non ci sia indifferenza, non passi un concetto del… ho sentito il telegiornale che… ecco, vedete, è importante perché nella vita di tutti i giorni noi stiamo come abituandoci a subire queste violenze e le riteniamo quasi normali. Sono piccoli gesti in molti casi, ma se ci abituiamo, lasciamo passare un concetto che spesso passa anche nelle scuole, fra i ragazzi, che è un gioco, non si è fatto apposta, è un raptus. Ecco, il rispetto nei confronti delle persone è fondamentale. Inizieremo il nostro percorso a caselle con una rappresentazione teatrale, perché attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso tutto ciò che percorre la nostra sfera emotiva è possibile essere se stessi. Ecco, a noi piacerebbe che ognuno di voi, ognuno di noi potesse sentirsi quotidianamente se stesso, senza vergogna, senza recuperazione, libero di poter indossare ciò che vuole perché gli piace. Certo, nel rispetto del decoro, ma senza doversi preoccupare di ciò che può accadergli camminando per strada o incontrando un gruppo di uomini o avere dell'imbarazzo per le battute che possono nascere sottese, bisbigliate, in una continua violenza e in un continuo modo di molestarci. Ecco, questi percorsi possono essere portati in campo e in qualche modo modificati con una cultura che parte dal basso e cioè che parte dai nostri piccoli, dalle nostre piccole, nel rispetto dell'altro, nel rispetto della diversità e nell'accoglienza, perché è necessario imparare a dirsi le cose, ad affrontare le problematiche non urlandosi addosso, non in modo violento, non ricattando, ma imparando a parlare, perché parlarsi è importante.